In vista del match di debutto in campionato contro l'Olympus Roma di domani sera alle 20.30 al Prado del Mauro, il mister dell'Alessandro Abbate, Gianfranco Angelini e l'Eterale Gabriele Ugherani suonano la carica al gruppo verde-blu. L'obiettivo è iniziare la stagione con i primi tre punti ed ecco cosa ha chiesto ai suoi il trainer, Laziale. Sappiamo quello che i nostri giocatori vogliono, perché sono giocatori che lotteranno su ogni pallone, questo è poco ma sicuro. Lo abbiamo dimostrato in tutte le partite, anzi forse l'unico problema è proprio quello che forse tu tira un po' più il freno, perché forse hanno preso un po' troppo il carattere mio e finché io sto fuori non faccio danni. Loro in campo se cominciano ad entrare un po' troppo forte ogni volta, qualche danno lo possono fare, però è una squadra dura, che corre, che suda, che sa quello che vuole. Sappiamo quello che vogliono i tifosi della Sandra Abbate, vogliono che la maglia sia sudata e vogliono soprattutto i tre punti. Sulla maglia sudata ci possono giurare, sui tre punti diciamo che noi cercheremo di portarli a casa. Gli fa ecco l'ex giocatore della Camero Son che nella passata stagione castigò la Sandra Abbate in gara 1 nei playoff. Il calcettista romano è pronto a mettersi dal metto pur di ottenere il bottino pieno. Sicuramente vorranno venire a vincere sul nostro campo, ma noi scendiamo un campo per fare la guerra e non ho mai visto nessuno voler perdere una guerra, quindi ci impegneremo al massimo. Sicuramente lotteremo pallone su pallone e questo è quanto.